Buongiorno a tutti, abbiate pazienza, è il mio primo intervento e sono molto in tensione, quindi grazie. Perdo pure la penna. Dunque, io sono RSA Unisin in B&P Paribas Security Services, una grande società purtroppo con la mentalità ancora della piccola fabbrichetta. Dal mio punto di vista, tra le tante migliorie apportate da questo contratto, sono l'avere regolamentato la conciliazione vita-lavoro, finalmente non più alla mercè delle simpatie aziendali. È molto importante il ritorno alla dignità degli assunti e anche aver riportato alla luce la questione del reintegro, perché come qualcuno già ha detto, effettivamente mettere un primo piede nella porta per rientrare a riottenere qualche cosa che ci è stato tolto. Tutto questo dimostra che ancora una volta, grazie all'impegno unitario, e mi ripeto anche con questo, e nonostante tutte le difficoltà, il sindacato che lotta per i diritti delle persone esiste ancora, e che la sua voce è forte, ed è questo che dobbiamo dimostrare alle persone oramai sfiduciate. Sfiduciate poiché le direzioni politiche che hanno destabilizzato le certezze dei lavoratori ottenute con le fatiche del passato, e la sfiducia anche di coloro che hanno avuto la fortuna di poter ottenere tutto quello che gli era dovuto senza dover lottare. Oggi possiamo dire che non importa né quanto tempo sia necessario né quanta fatica, ma andiamo diretti come caterpillar verso l'obiettivo prefissato. A volte va bene, a volte va meno bene, ma l'importante è tentare, perché ogni lavoratore possa sentirsi tutelato e non discriminato se oltre al lavoro ha una vita e delle difficoltà. Ad oggi stiamo dimostrando che tutto ciò che ci è stato tolto ce lo stiamo riprendendo con gli interessi e che stiamo andando nella direzione giusta. Io, RSA, comunque ancora all'inizio, e come lavoratrice ci tenevo comunque a congratularmi con tutti per il lavoro svolto quotidianamente, e con chi ha la forza e il coraggio di andare in prima linea, perché ogni tassello è fondamentale nella costruzione di un puzzle, e come un puzzle bisogna essere uniti, perché solo così siamo più forti. Concludo citando una frase di un film per bambini, ma è una frase bellissima, secondo me ci sta completamente, e cita «Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano». Grazie.